Guerra ai piccioni a Como, vietato dar loro da mangiare. Lo ha deciso il sindaco Mario Landrescina con un'ordinanza contingente ed urgente a finire nel mirino del provvedimento l'inquilino di un condominio di Como. Una ventina i volatili che stanzionavano sul tette e nel giardino condominiale. Non solo, balconi ricoperti di guaino e piume. Dato atto che la massiccia presenza di popolazione aviaria può causare danni alla salubrità dell'ambiente, si legge nell'ordinanza, vieta di alimentare i piccioni presenti nello stabile con espresso di vieto di gettare o posizionare nei balconi o nel cortile scarti di avanzi o altri alimenti per volatili. Così il sindaco ha deciso che il condominio dovrà provvedere entro 15 giorni dall'ordinanza allo sgombero, risanamento e pulizia periodica dei locali e dei posti nei quali i piccioni abbiano nidificato o depositato guaino. Impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi, sui davanzali e nei cortili, posizionandola dove necessario idoni dissuasori per l'allontanamento. Chiunque dovesse essere sorpresa a dar da mangiare volatili potrebbe incorrere in multe.